Allora Presidente, l'enclave Pacassoni & Company ha lasciato in blocco la carnivalesca, come mai? Diciamo che era imprevedibile purtroppo questa fine, io ringrazio umanamente quello che ci hanno dato, però fin dall'inizio questa unione tra loro tre e i quindici del Consiglio non ha funzionato, quindi non ci sono sembrate poi così strane queste dimissioni. Nonostante questo comunque li ringraziamo e andiamo avanti, la carnivalesca è più importante delle singole persone, e quindi andiamo avanti, andiamo avanti con tanti giovani, adesso provvederemo alla surroga delle tre persone che si sono dimesse e già pensiamo al nuovo carnevale, abbiamo già alcuni punti fermi e quindi andiamo avanti. Divergenze sui contenuti, sulla programmazione, il carro di Rubem Mariotti che non è passato, quale può essere stata un po' la goccia che ha fatto a traboccare gli maschi? Ma io guarda non ho voglia di, potrei dire tante cose ma non mi pare elegante farlo e neanche utile per nessuno, quindi diciamo che ci sono vedute diverse, noi guardiamo avanti e quindi speriamo che questo, il popolo fanese e italiano lo capisca e quindi proseguiamo per la nostra strada. Tecnicamente adesso che cosa avverrà? Ci saranno ripercussioni sulla programmazione del carnevale 2019 o diciamo che il percorso è già tracciato? No, il percorso è già tracciato, abbiamo già cominciato a lavorare da tempo, appunto siamo tanto in anticipo quindi non ci sarà nessun tipo di ripercussione, ovviamente provvederemo alla surroga delle tre persone dimissionarie con i primi non eletti della lista e quindi ricomporremo il consiglio direttivo e andremo avanti. Chi sono i primi tre non eletti? Beh ovviamente si accetteranno, adesso per il momento li abbiamo avvisati, sono Adolfo Ciuccoli, Stefano Miccioli e Simone Spinaci. Da quando il meccanismo burocratico entrerà in vigore? Il 6 di giovedì 6 faremo il CDA dove prenderemo atto delle dimissioni e contestualmente entreranno le tre persone che eventualmente accetteranno di far parte della carnevalesca.